E' stata riaperta al pubblico, dopo alcuni interventi di sistemazione, la catacomba paleocristiana di Superecum, in Castelvecchio-Subequo. La cerimonia di riapertura del cimitero ipogeo si doveva tenere nell'area attrezzata antistante l'ingresso del sito, dove era stato sistemato un altare per il servizio religioso. Ma la pioggia battente ha impedito che la cerimonia potesse svolgersi all'aperto secondo il programma. Pertanto si è subito proceduto alla riapertura del sito con il taglio del nastro e la visita alla catacomba. E poi tutti si sono recati nella monumentale chiesa di San Francesco, dove Monsignor Giovanni Carrù, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ha tenuto una funzione religiosa. E' sempre commovente ritornare e mettere anche noi i nostri piedi, i nostri passi su questi luoghi dove i cristiani non hanno avuto paura di dare la vita per Gesù Cristo. Molto importante questa scoperta perché in questa zona del primo cristianesimo non si sapeva niente. Quindi questo monumento è l'unica prova che una piccola comunità cristiana si era insediata a Super Ecum già nel IV secolo. Nel luglio del 43, scrive Giuseppe Cera del gruppo archeologico Super Equano, nel pendio della parete nord della collina denominata Colle Moria, casualmente venne alla luce una lunga galleria. Esplorata attentamente risultò piena di sepolture con iscrizioni, lucerne ed altri accessori funerari. Esperti, dopo una visita munitissima, confermarono che si trattava di un'autentica catacomba del IV secolo. La cosa straordinaria è che il primo avvento immediato del cristianesimo ce l'abbiamo avuto già qua nel IV secolo e questa la dice lunga sull'importanza di questo territorio. La catacomba è costituita da una galleria scavata nella roccia lungo una quarantina di metri di partita in due bracci, è alta due metri circa e larga poco più di un metro. Volte a botte e loculi posti lateralmente nelle pareti con iscrizioni graffite. Presente un simbolo del cosiddetto monogramma costantiniano. Come è noto le catacombe furono le sepolture dei primi cristiani, pertanto è pensabile che nella zona vivesse una comunità cristiana abbastanza vasta. È pensabile inoltre che sul territorio si trovino altre catacombe non ancora scoperte. È un monumento importante per tanti altri aspetti, per esempio perché qui sono stati trovati degli oggetti all'interno delle tombe, dei corredi, peraltro anche dei contenitori che servivano per le offerte alimentari dei defunti. Quindi le comunità cristiane proseguirono delle pratiche funerarie già pagane. Il sindaco Pietro Salutari ha espresso soddisfazione per un evento che dà lustro al centro subequano e converge su Castelvecchio subequo l'attenzione degli studiosi. È una giornata importantissima perché portiamo alla luce, o meglio riportiamo alla luce, cerchiamo di valorizzare, di far conoscere un sito archeologico sacro che molte persone non conoscono. Ritiene con certezza che in prossimità di questo tunnel, di questo ipogeo, ce ne sia un altro vicino, perché la città Superegum era una città molto grande, allora questo borgo romano qui nel nostro territorio e questo praticamente lascia sicuramente presupporre che ci sia un altro tunnel, tant'è vero che noi ci stiamo già attivando per cercare di scoprirlo.